Eccomi! Oggi ragazzi vedremo insieme la prima maglia della Germania usata durante gli europei femminili di quest'anno. Non dovrebbe essere la maglia che andrà in cataro, ma questo lo spiegheremo più avanti. In versione FAN. La maglia HOME della Germania 2021-22 è prevalentemente bianca con loghi neri. La particolarità è che il logo adidas della Germania sono posizionati centralmente. Anche le tre stripes adidas sulle spalle sono di colore nero. Il colletto ai polsini delle maniche sono arricchiti con i colori della bandiera tedesca. L'inserting mesh sotto le braccia e la tecnologia anti-ubilità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. Questo prodotto contiene il 100% di materiali riciclati ed è solo una delle soluzioni di Agidas per la lotta contro l'inquinamento causato dai rifiuti plastici. secondo me è una bellissima maglia molto semplice ma a me piacciono le maglie non troppo lavorate diciamo così. Mi piace molto il dettaglio della bandiera sul colletto e sul colpino delle maniche tutto sommato nella mia classifica questa prende tre stelle. In alto vedete il prezzo come vedete bassissimo quindi non vi resta che comprarla. Vi ricordo che in descrizione trovate i riferimenti per ordinare la maglia e che il sito prevede anche delle spedizioni molto veloci. Questa ad esempio è arrivata in 18 giorni dall'ordine alla consente. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità. Prima di farlo però vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media e è una versione fan. Grazie a tutti!